Miledi e cavalieri prendete posto alla tavola rotonda di Reward 2 e benvenuti e benvenute Bentornati e bentornate in questo che è un video speciale Intanto, perché come vedete dall'immagine sul mio sfondo, siamo arrivati a 537 iscritti E di questo non so veramente come ringraziarvi Aumentiamo veramente ogni giorno ed è bellissimo per me ogni volta entrare nelle mie analytics del canale E scoprire ogni giorno che c'è nuovi iscritti, nuove persone che si sono sedute alla nostra tavola rotonda immaginaria E sono felicissimo, felicissimo Questo video nasce proprio per questo Perché? Perché superati i 500 iscritti abbiamo sbloccato quel tasto che vedete là Lo vedete scritto abbonati Che cosa comporta sostanzialmente questa cosa? Funziona così Io ho deciso di impostare l'abbonamento nella soglia più bassa che YouTube concedeva Quindi 0.99 centesimi, meno di un euro quindi, al mese Perché? Perché alla fine non voglio speculare sul canale È solo un modo per poter mettere, scusatemi, qualcosina da parte Per comprare attrezzatura nuova, un green screen, la cam nuova eccetera eccetera Quindi sono tutte cose che vanno poi ad essere reinvestite sul canale sostanzialmente Per cercare poi di dare sempre più qualità ai miei progetti E come vi dicevo è meno di un euro al mese Funziona così Quali sono i vantaggi? Oltre a delle emoticon reo-arturose dedicate a chi è abbonato Diciamo che i contenuti principali, i benefit principali sono due Il primo è l'accesso, anche se questo Diciamo c'è però, non è chissà che grande cosa Sto facendo una grande pubblicità al mio abbonamento No, però l'accesso in anticipo ai miei video Quindi sostanzialmente se deve uscire il martedì sera Voi ce l'avete già dal lunedì, se l'ho caricato lunedì E quello però ha disponibilità Perché ovviamente io a volte carico i miei video molto prima Che escano poi pubblicamente A volte purtroppo registro il giorno stesso e pubblico la sera Quindi dipende anche dalla disponibilità del tempo Perché lavorando Però un benefit invece, quello secondo me principale Quello che è garantito al 100% Sono contenuti esclusivi per gli abbonati Nello specifico una serie Che ora che cresciamo un pochino di più come abbonati Verrà dedicata solo appunto agli abbonati Che sceglierete voi in quanto abbonati Mi direte voi che cosa volete che io legga E io lo leggerò Lo leggerò e sarà esclusivo appunto Degli abbonati Ovviamente ci saranno anche delle live solo per gli abbonati Ci saranno contenuti ad hoc solo per gli abbonati Di cui appunto decideremo a volta per volta insieme Quindi se vi va anche solo per sostenere il canale Se non vi volete abbonare Perché come vi dicevo è un 0.99 al mese Potete anche mandare un super grazie Che trovate sempre dove ci sono il mi piace Il non mi piace Queste cose qua C'è un super grazie Di cui una parte va a me Quindi se volete aiutare il canale a crescere Anche quello può essere un modo O altrimenti miledio e cavalieri Molto semplicemente mettete un mi piace ai video Se vi sono piaciuti Iscrivetevi al canale Perché aiutate anche così in realtà La crescita della nostra tavola rotonda Il primo step era 500 iscritti E l'abbiamo superato Il prossimo sarà 1000 A 1000 inizieremo poi veramente Supereremo veramente uno scoglio grande In realtà su youtube Perché lo so Il mio canale è piccolino Me ne rendo conto Però i 1000 iscritti Già E sono piccoli numeri sempre Però è pur sempre uno scoglio importante Quindi Grazie mille Grazie mille per aver ascoltato Questo sconclusionato video Spero veramente che vi sia Caro L'abbonamento che ho impostato Spero vi possa piacere Spero Che vi abbonerete Per poter Crescere Ancora di più E qualora non lo faceste Faceste Vabbè Qualora non voleste Vabbè Se non vi volete abbonare Non fa nulla Ci mancherebbe Siete comunque sempre Le mie miledi E i miei cavalieri E grazie Grazie mille comunque Veramente Per il sostegno che mi date giornaliero Ci vediamo alla prossima Sempre qui Alla tavola rotonda Di Robert 2 Grazie mille